Musica Lo speciale di oggi è dedicato al Natale, non però al Natale consumistico che bene o male tutti, chi più chi meno subiamo, ma ad un Natale in natura, all'insegna dell'autoproduzione. Per fare questo siamo venuti a Marzano, sulle colline del Parmense, e qui con noi c'è un elfo che ci sta venendo incontro, l'elfo Ilaria. Ciao Ilaria, ciao. Tutti qua, non mi metto di là. Grazie per essere con noi. Gli elfi fanno confusione. Gli elfi sono un po' confusionati. Sì, allora ovviamente l'ispirazione dell'elfo è arrivata da questo bellissimo cappellino che anche in questo caso hai fatto tu con le tue mani, come molte delle cose che vedremo oggi, come l'albero di Natale, le decorazioni. Siamo a Marzano, come dicevamo, dove tu vivi da oltre vent'anni, in questa zona diciamo della provincia di Parma, tu ti sei trasferita più di vent'anni fa, quando hai fatto un vero e proprio cambio vita. Sì, avevo un negozio, vivevo a Filino e lavoravo all'Anghirano, poi ad un certo punto proprio ho scelto di… mi è venuto incontro a questo posto, nel senso che parlando con un amico cercavo casa e nel cercare casa mi hanno detto «Ah sì, c'è questa casa lì sopra nelle colline di Parma», sono venuta a vedere e me ne sono innamorata. Nella mia prima abitazione è stata a Cella di Palmia, che è verso il Vaganza, e poi ho abitato in un'altra casa sempre dalla parte del Vaganza per arrivare poi qui con Fabrizio, dove abbiamo proprio acquistato casa, mentre prima ero in affitto e viviamo qua. Abbiamo fatto anche scelte molto estreme, nel senso che per diversi anni abbiamo avuto capre, abbiamo avuto una vacca, abbiamo coltivato soltanto la terra e quindi c'è stato anche tanti anni di questa vita. Voi tra l'altro vivete qua con i vostri due bambini? Adesso sì, ci sono anche Zeno e Zahira, ormai da tanti anni, da 12 ai 10 anni, che viviamo tutti e quattro su di qui. Ascolta, il centro più vicino, i chilometri che fai per andare a fare spesa, dacci un'idea. Il minimo sono sempre 8 minuti, Calestano ed è il più vicino, ma in realtà noi andiamo a Collecchio e quindi sono 20. Sì, sì, poi c'è Fornovo, 18 minuti, però ecco le distanze sono proprio queste. Bene, Lara, poi ci racconterai ancora di te, adesso ti chiederei da bravo elfo se ci porti ad imparare come preparare le decorazioni natalizie, ovviamente all'insegno del reciclo, del fatto a mano, degli elementi naturali e anche a realizzare un albero di Natale, che in realtà è ad opera di Fabrizio e di cui ci parlerà poi lui. Ok, andiamo. Il periodo natalizio ed in particolare i giorni dell'Avvento, in cui ci si prepara al Natale, hanno perso per molti il loro sapore e la loro atmosfera di calore, unione e spiritualità. I valori di amore e solidarietà sono stati soppiantati da un approccio consumistico, proprio per svegliare chi si è assopito, ma anche per ricordare alle nuove generazioni l'importanza della cura per noi stessi, i nostri cari, ma anche tutto ciò che ci circonda, vi abbiamo portato da una famiglia che, con consapevolezza e impegno, porta avanti riti e tradizioni. Il tutto con una forte impronte green e con la manualità che va coltivata nei grandi e soprattutto trasmessa ai piccoli. Fabrizio! Ciao! Ciao! Allora, ti interrompo, vedo che stai creando un bellissimo albero di Natale. Allora, poi ti crederò di raccontarci appunto come lo stai realizzando, ma innanzitutto ti chiedo di dirci di te. Fabrizio è il marito di Ilaria, che abbiamo conosciuto poco fa, insieme, anzi non insieme, entrambi avete fatto una scelta di vita, di cambio vita, e poi i vostri destini si sono incrociati, è così? Sì, diciamo che io me ne sono andato dalla città a 24 anni, quindi 24 anni fa, quindi ormai sono mezzo parmigiano e mezzo parmese, perché sono 48 anni che sono al mondo, quindi la metà della mia vita l'ho passata qua in montagna. Qui, in un posto meraviglioso, dove tra l'altro abbiamo visto nella tua casa tanti mobili, la cucina, le porte, sono state realizzate da te, che però non sei un falegname di professione, non si direbbe dalle cose meravigliose che crei, però sei proprio un'autodidatta. No, no, si direbbe dalle cose che crei, un bravo falegname lo vedo subito che sono un obbista. Beh, diciamo che comunque hai un lato artistico molto spiccato, fai delle cose davvero molto belle. A partire da quest'albero di Natale, raccontaci un po', anche perché magari i nostri telespettatori e alcuni vogliono prendere spunto, come lo fai, che materiale ti sei procurato, come funziona? In realtà sono praticamente tutti scarti, nel senso che questo è un pezzo di una quercia che ho tagliato nel bosco mentre facevo legna, quindi siccome era particolare, l'ho tenuto, è stagionato un po' e adesso ci faccio un alberello, però in realtà era un pezzo di legna da ardere e questo qui è uno scarto di un compensato di altri lavori che ho fatto in casa. Quindi quella sarà poi la base? Sì, questo viene attaccato dietro e poi facendo vari forellini l'alberello viene tagliato con il segretto alternativo, prima poi si fora e si fanno i pendagli e tutto quello che può essere un addobbo inventato. Poi lì l'abbastanza brava con i lavori manuali, feltri, lane, tutte queste cose, quindi poi lo lavoriamo insieme. Quindi qui insomma avete costruito una vita, come stai costruendo questo albero, tutto all'insegna dell'autoproduzione, è vero? Beh, una volta sì, nel senso che io me ne sono andato dalla città con l'idea dell'autoproduzione e per tanti anni siamo anche riusciti a realizzarla. Schiavamo le cappre ai maiali, facciamo i salumi in casa, andavamo al pascolo, facciamo il formaggio. C'è stato un periodo in cui eravamo veramente quasi autosufficienti. Poi sono nati i bimbi e quindi abbiamo venduto tutto perché non si può stare dietro i bambini e agli animali, è impossibile. Quindi abbiamo fatto una pausa, diciamo. Però insomma sicuramente quella che state conducendo voi è una vita nella natura, una vita diciamo in qualche modo comunque alternativa. Alternativa non lo so, nella natura sicuramente sì, anche se poi c'è gente di città che vive la montagna molto più di me, perché io lavorandoci difficilmente mi faccio una passeggiata sul Montepenna. Capita però, chi invece ama la montagna della città magari tutti i weekend gira, fa cose, quindi un po' ci manca anche questa parte di viverla da utenti. Di svago. Assolutamente, però ci siamo immersi tutti i giorni, quindi è molto bello. Ripensando alla tua vecchia vita, qual è stato il momento in cui hai deciso di cambiare? Quali erano le cose che ti frenavano, per cui magari il cambiamento non è stato immediato? Mi frenava all'idea preconfezionata di dover finire l'università, avere un lavoro, una posizione, un buono stipendio e fare una vita normale, che è quello che ci inculcano da quando siamo al mondo. Quindi quelli sono poi condizionamenti familiari, personali, insomma. Non mi ha frenato niente, io appena ho deciso di mollare l'università sono partito e sono andato a vivere a mille metri in Alta Valceno, quindi da lì è partito tutto. È stata una cosa diciamo passionale fin dall'inizio. Ma sì, da bambino mi portavano in vacanza su di là e là negli anni 80 era veramente vita da medioevo, vista oggi. Cioè c'erano ancora i cesti in salice che impilavano nelle baracche per il fieno, si andava al Pasco tutti i giorni, io mi svegliavo, sì e no, però sentivo le mucche che passavano sotto casa e dietro le mucche c'erano dei bambini di 9 anni magari. Quindi era stata un'attrazione fatale. Poi qualcuno faceva ancora il formaggio, gli ultimi, qualcuno faceva il pane in casa e quindi questa cosa qua mi è entrata dentro senza razionalmente averlo mai capito. Poi quando è stata all'età ho detto io voglio fare quello, cioè voglio innanzitutto essere autosufficiente. Bene, allora Fabrizio ti lascio al tuo lavoro e non vediamo l'ora di poter ammirare il risultato finale. Va bene. Buon proseguimento. Grazie. Grazie. Come ogni albero di Natale anche quello di Fabrizio ha bisogno di decorazioni. Quindi siamo tornati dall'elfo Ilaria che ci racconta quali tipi di decorazioni si possono fare a casa, che materiali servono. Qui abbiamo tante belle cosine, addirittura una valigia. Eh, ma ci nascondono sempre i grandi segreti. Eh, andiamo a vedere. Wow. Bella lana. Lana cardata, vero? Questa qui sì, è lavata e cardata. Dalla lana. Magia. Con questa lana si può ricavare una pallina, come questa qui, che è perfetta per decorare un albero di Natale. Ma non solo. E poi vedremo, ci sono tanti piccoli elfi lì al lavoro che stanno realizzando delle palline, degli ignometti. Ah, ma è proprio magica questa valigia. Degli uccellini bellissimi. Con feltro questi. Qui sì, questa. Dopo ci spiegherà bene. No, non ne ho metto un po' più grande che lì con gli altri. Che ha fatto queste meraviglie. Ah, le sorprese non sono finite. Però questa è un'altra cosa ancora. Però ci sono tante cose che si possono fare con la lana. Quindi la materia prima è questa, che abbiamo visto. Poi ci sono gli aghi, giusto? Sì, si usano gli aghi per infiltrire la lana perché si può, dopo lo vedremo quando passiamo nell'altra parte dove ci sono appunto degli elfetti, e per infiltrire e cardare la lana si possono usare questi aghi che sono proprio apposta. Oppure appunto sapone, acqua, che è come è stato fatto questo cappello. E anche questo è stato infiltrato con acqua e punzonato anche. Invece questo è tutto con la punzonatura, con questi aghi. Qui cosa abbiamo? Vicino alla lana un altro materiale naturale che si può utilizzare ovviamente è il legno. Sono tronchi, basi che si possono trovare nei boschi in una passeggiata. per creare gli angoli della natura. Abbiamo l'effetto, adesso non ci sta l'ognometto, ma adesso lo troviamo. Qua mi sa che ce ne sono altri nascosti, intanto ti passano anche loro. Nella valigia. È una valigia magica questa. Sì. Che guardano. Stanno nascosti in silenzio. Allora, Elfo e Lare, se sei d'accordo, andiamo a vedere gli altri elfetti, elfini, non so come chiamarli, al lavoro così magari ci spiegate qualcosa di più, tu e Oksana, su come si preparano queste decorazioni. Bonitieri. Andiamo. Grazie. 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 Per questa occasione speciale abbiamo anche un amica di famiglia, della famiglia di Ilaria, qua che è Oksana, che è anche una maestra di lavori manuali della scuola che frequentano i figli di Ilaria, che è una scuola steneriana. Tu oggi hai preparato questi bellissimi uccellini. Ti chiedevo di spiegarci come li hai fatti, che cosa hai utilizzato, qual è il metodo. Allora, questi uccellini sono fatti praticamente con materiale di recupero. quasi tutti abbiamo in casa gomitole piccole o anche maglioni che non usiamo più, che si può disfare, o a volte i maglioni si infiltrisci e dispiace a buttare. E qui forse abbiamo dei pezzettini, vero? Qua è un maglione vecchio che era infiltrito e con questo possiamo fare le ali, becco, coda. invece con i filati, che questo era un maglione che non usavamo più. Allora prendo un po' di lana cardata per fare cuore e anche velocizzare il lavoro. E devo ricoprire creando un piccolo gomitolo, così. Sì, diciamo il corpo, l'interno e con la lana cardata. Ecco, qui ho già preparato uno. Sì. Allora, con quattro punti, praticamente fisso questo filato che non si smonta più. Prossimo passaggio, vedete, poi faccio un po' così per formare magari più ovale. Prossimo passaggio, prendo un po' di lana cardata che avete visto prima. Anche qua, piccoli pezzettini che mi sono rimasti da lavori. Scarti di lavorazione che si possono però utilizzare per creare questi bellissimi uccellini che vanno benissimo da mettere sull'albero di Natale. Con un anellino di lana si possono proprio appendere. Vediamo come si fa, quindi devi usare l'albero? Sì, devo usare in questo caso l'ago per attaccare questa lana cardata. Se non avete aghi da feltro, si può ricamare con un altro filato di colore, si può anche fare un ricamo in questo caso. Ma noi usiamo l'ana cardata. Poi decido se voglio decorare la pancia o fare un ciuffo, decoro la testa. Solo a decidere. Quindi spazio alla creatività. E tu, Oksana, ovviamente hai molta esperienza e molto pratica. Quanto tempo impieghi per realizzare un uccellino? Magari quarto d'ora. Ma anche guardando, non so, leggendo una fiaba, bambini possono fare gomitole. Così alla sera prepariamo un po' di gomitole con quale poi si può realizzare. Una volta quando ce l'hai tante gomitole, fai i corpi. Poi fai anche tanti insiemi, ali e code. E anche un momento... Come fai a fissare le ali e le code? È sufficiente l'ago? Io ho messo anche un po' di lana cardata. Un po' di qua e un po' di qua. E questa qua, come forse una cucitura. Però con l'ago da feltro. Questo lago ce l'ha dentini che porta l'ana dentro. E sì, forse anche come nodo. Allora, ti lascio il tuo lavoro. Vedremo poi il risultato finale. Intanto vado a cercare l'elfo Ilaria, che è un po' birichino, questo elfo. Che sta facendo fare ai bambini, come vedete, delle palline che poi, dopo aver realizzato la base, loro decidono come colorare queste palline. Quindi prendono la lana dal tavolo. Ma lo lascio spiegare a Ilaria, che invito a venire qua vicino a Xana, dove abbiamo un po' tutto il materiale. Allora, raccontaci un po'. Allora, intanto... Prima abbiamo visto nella valigia... Intanto vado a prendere la pallina. Il risultato finale, così vediamo come viene. Iniziamo proprio. Abbiamo questi... Dobbiamo creare dalla lana, che abbiamo visto prima nella valigia. Dobbiamo sfilare una parte, perché la lana ha delle direzioni, ha delle trame. Quindi noi dovremmo guardare questa trama. Se è per, diciamo, il verticale, va proprio sfilata così e va tenuta questa trama. Quando si fa questa pallina, dopo magari, se mai lo facciamo vedere meglio nel dettaglio, per fare la pallina, si mette una parte che scende e l'altra. E vado, tiro e giro. Tiro e giro. Intanto che tiro e giro, devo creare proprio una pallina. Questi sono tutti i lavori che i bambini facilmente possono imparare e che fanno anche volentieri. Sì. Tra l'altro è un materiale caldo, quindi assolutamente è il momento ideale, direi, per farlo. Poi vedremo il risultato finale, vedremo come sta bene questo materiale caldo vicino al legno. E quindi queste palline di decorazione è un albero di Natale, come ha fatto Fabrizio per noi, che poi è una sagoma di legno. E una volta che, adesso questa è una piccola pallina, si continua ad aggiungere lana a lana, finché arriviamo ad avere una pallina di questo tipo. Quando abbiamo questa pallina, la iniziamo a punzonare, come diceva prima Oksana, con questo ago che è proprio a questi dentini che cardano, la infiltriscono, no? E l'effetto è più questo. Quindi insomma diventa compatta, diventa più dura. Non si sfilaccia. Non si sfilaccia. E rimane con questa forma. Rimane con questa forma. Poi quello che vediamo fare gli altri elfi è proprio di scegliere dei colori, quindi degli strati di lana ad andare a sovrapporre per avere un risultato poi così, no? Sì. Un po' di vario. Sì. Spazio alla fantasia ovviamente. Spazio alla fantasia, sì, dal cielo stellato al piccolo alberello o anche solo un bel giallo che si illumina in questo momento così. Infatti vediamo qui che è un lavoro questo che stiamo spiegando che sta facendo Zeno, tuo bambino. Prima ci hai parlato dei tuoi figli Zeno e Zaira che poi vediamo. e lui quindi ha scelto il giallo. È anche bello far coinvolgerli proprio nelle decisioni, nella scelta dei colori. Sì, dopo una volta che viene funzionata noi questa l'abbiamo anche fatta, l'abbiamo anche lavata in lavatrice. Abbiamo fatto un lavaggio in lavatrice per renderla ancora più proprio bella, compatta. Così non si muove proprio. È stata una nostra scelta però. Ecco. Bene Ilaria e Fabrizio, oggi ci avete mostrato come si può realizzare un albero di Natale e le sue decorazioni tutte in casa, tutto fatto a mano e ci avete portato ora nel vostro salottino e anche qui tante cose, anzi forse tutto, è proprio fatto da voi, vero Ilaria? Sì. Tutta la parte in legno è praticamente fatta da Fabrizio e poi sì abbiamo cercato di realizzare il più possibile un ambiente caldo e utilizzando soltanto cose naturali ma proprio perché ci si sta meglio. Ecco. Fabrizio, avete portato la natura in casa ma che valore ha tutto questo per voi ma soprattutto per i vostri figli, per i bambini di oggi? Beh, la natura ha diciamo il pregio più grosso secondo me è quello che ha forme indefinite quindi per i bambini attiva dei meccanismi di immaginazione che tutto quello che è prefabbricato cancella quindi alla fine li rende vitali e attenti a accogliere, ecco li abitua a accogliere cosa che normalmente noi siamo abituati a ricevere informazioni già pronte. Tra l'altro la nostra società rappresenta molti pericoli per i bambini di oggi rischiano di vivere in un mondo virtuale non più reale. Assolutamente qua a Zeno aveva un anno e mezzo quando abbiamo ristrutturato io ho dei filmati in cui lui carteggia con la carteggiatrice e Lima con la Lima quindi ha partecipato anche lui ha fatto il cemento insieme ai muratori insomma è stato molto bello coinvolgente e ha visto le cose dall'inizio in fin dei conti i bambini hanno bisogno di capire da dove arrivano le cose e quindi questo è stato diciamo un aiuto per loro. Anche per te questo è molto importante vero Ilaria? Sì assolutamente anche perché c'è il contesto proprio naturale da forze nuove ma vive quindi è proprio nel vivente che il bambino riesce a entrare in empatia anche con con gli altri perché quello che arriva dalla natura è proprio quello che poi dopo rispecchia lui nell'umanità quindi è tanta forza. Un'altra cosa molto importante di oggi che va tenuta presente a parte del discorso del contatto con la natura è proprio del fatto che i bambini stiano insieme giochino insieme non davanti a un computer non tramite internet ma il fatto che imparino come dicevi tu a entrare in empatia l'uno con l'altro un altro valore di quelli che si rischia di che venga perso assolutamente d'accordo il valore anche per noi perché io mentre faccio legna poi trovo delle forme strane dico no questa la devo tenere quindi comincio a selezionare anch'io faccio quello che fanno i bambini in qualche maniera anche se siamo nati con diciamo un imprinting diverso perché a noi ci hanno dato i giochini di plastica dove c'è da incastrare il triangolino nel buchetto e dopo un po' lo fai poi finito lì e invece loro sono nati e cresciuti nel bosco e quindi hanno iniziato a giocare con quello che c'era nella natura quindi è assolutamente un valore molto alto per loro ma anche per noi che stiamo riscoprendo l'infanzia tramite la loro infanzia certo poi anche le attività manuali sia per gli adulti che per i bambini hanno una grande valenza anche per l'utilizzo delle mani anche per la loro dimensione meditativa assolutamente abbiamo visto lavorare insieme i bambini prima a fare le palline decorative per il Natale erano tutti in silenzio concentrati appagati insomma non bisogna trascurare questi aspetti fondamentali per la loro crescita serena e felice assolutamente la tecnologia è un aiuto può essere un aiuto per l'uomo ma non deve sostituirlo questo è secondo me il discriminante più grosso e del tranello in cui stiamo un po' cadendo certo un conto è l'uso un conto è l'abuso abbiamo citato i bambini abbiamo parlato di loro per tutto questo tempo e direi a questo punto di chiamarli per augurare a tutti delle buone feste tutti quanti insieme ok buone feste buone feste buone feste buone feste buone feste